Disturbi? Sono dei disturbi? Ma non sono disturbi, è una poesia di Natale. Caro babbo Natale, non porto cravate, non porto ciabatte, ma portami un sogno che ne ho tanto bisogno. Portami Stream! Stream! La nuova tv digitale! Ti becchi? Ti becchi? Ti becchi un vero ripieno di sport, cinema e musica? Per favore. Diventate teleindipendenti, abbonatevi a Stream. I primi sei mesi sono gratis. Per abbonarvi chiamate l'167-567-765. Secondo me tu non fai in tempo ad abbonarti.